Saldi al Via il 3 gennaio, l'ha deciso la Giunta regionale dopo aver acquisito il parere favorevole delle organizzazioni di categoria del commercio e dei consumatori. È un'iniziativa che si spera possa dare sicuramente uno stimolo ai commercianti e anche al centro storico che è in grossa sofferenza e ci auguriamo come ogni anno che purtroppo di non doverci trovare i consumatori che vengano fregati durante questi giorni di buoni affari. Ecco perché bisogna prestare molta attenzione ai prezzi, prima e dopo. Anche quest'anno l'Adico propone la campagna Fotografa l'Acquisto che si tratta solamente di andare qualche giorno prima a fotografare l'articolo che si intende comprare con il reale prezzo per poi far sì che giorno 3 quando inizieranno i saldi si possa realmente verificare sia il reale sconto che il vestito sia di stagione rispetto a quelli che potrebbero essere degli avanzi di magazzino. E oltre questo bisogna considerare altri piccoli accorgimenti. Bisogna diffidare da quelli che sono degli sconti superiori al 50-60% per non trovarsi ad acquistare magari avanzi di magazzino. La seconda cosa è ricordarsi che bancomante e carte di credito devono essere sempre accettate e conservare lo scontrino perché poi lo scontrino fa tenere valida quelli che sono gli effetti della garanzia che dura due anni. Terza cosa è ricordarsi sempre che il diritto di ripensamento non è quello che regolamenta la garanzia, non c'è diritto alla sostituzione se non che il prodotto è difettato. E quarta e ultima cosa soprattutto imporsi quello che è un budget di spesa perché poi si rischia di spendere di più e trovarsi in difficoltà la prima imprevisto che una famiglia può avere. Grazie.